I cubetti che i macegoni sono tornati, oggi saltiamo sul letto della zia e siamo scesionati, oppure... E io sono il Diego, il protagonista cane! Oggi faremo degli esperimenti! Ma che dici se saltiamo sul letto della zia? E da te? E' Croazia! Ah! Mi ha fatto crack i tendini! Ora salto io! Ragazzi forse si sono spaccate delle assi, andiamo a vedere! Cubetti no? Non si sono spaccate nessune assi? Vabbè comunque concludiamo il video qui, con un bel salto acrobata di Sofia! 3, 2, 1, vai! Una bella spaccata di Sofia! Ciao! Ah mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao! E se vi sono piaciuti questi video, potete provare a farli a casa, ciao! No, questo qui no!